Ciao ragazzi, adesso oggi vi parlo di un'altra news, volevo parlarvi della macchina ad aria compressa. Verso la fine del 1900, proprio a cavallo tra il 1900 e il 2000, un ingegnere Guinegret, francese, che ha collaborato con la squadra di Formula 1 della Renault, cosa succede? Che lui è ingegnere motoristico, ha sviluppato per conto suo un motore che funziona ad aria compressa. Voi direte, ma com'è possibile? È possibilissimo, non c'è niente da meravigliarsi. Provate a pensare un attimo lo scopo di qualsiasi combustibile. Qual è? Praticamente il combustibile viene iniettato dentro al cilindro, questo si incendia e lì cosa succede? Succede che praticamente avviene una espansione per effetto della combustione e quindi cosa succede? Si cosa succede? Che se noi questa energia la sostituiamo con che cosa? Con dell'aria compressa. L'aria compressa immessa nel cilindro, cosa succede? Tramite ovviamente un iniettore, sfrutta che cosa? Sfrutta l'espansione, perché ovviamente da un iniettore spariamo dentro al cilindro, quindi una camera più larga, sfrutta l'espansione della pressione e di conseguenza otteniamo lo stesso risultato. Praticamente otteniamo della forza, dell'energia che fa sì che il pistone si muova e otteniamo esattamente la stessa identica cosa. Il problema qual è? Non è tanto il motore perché addirittura inizialmente l'ingegnere aveva fondato una sua casa, una sua officina, una sua cosa, però purtroppo non è andata molto bene. Però il brevetto l'ha preso praticamente la casa automobilistica Tata che crede in questo sistema. Quindi se addirittura una casa automobilistica rinomata come la Tata ha pensato di investire in questo brevetto vuol dire che ha una certa validità insomma. Dicevo che purtroppo però il problema qual è? Il problema è questo qua, perlomeno qua in Italia, che qui dubito fortemente che potrà mai prendere piede una cosa del genere. perché? Perché qua praticamente come anche per l'idrogeno sono cose alternative che qui purtroppo non prenderanno mai piede o se le prenderanno mi sa che lo prenderanno molto lontano, molto avanti nel tempo. Perché? Per il semplice fatto che qua in Italia ovviamente ci sono troppi legami politici ed economici con ovviamente i paesi esteri, con le famose cosiddette sette sorelle che sarebbero le sette compagnie praticamente che detengono il potere petrolifero e che comandano tutto quanto il mercato petrolifero, nonché anche economico sotto questo punto di vista insommaico. E quindi proporre una macchina che praticamente inquina zero, non consuma niente. pensate che questa macchina qui con una ricarica ha due possibilità. Allora, o avete una scorta, un compressore esterno e potete caricarla praticamente in due orette con una spesa di circa un euro, un euro e mezzo e fate 250 chilometri. Se no, più o meno con la stessa cifra è dotato di un compressore interno e quindi invece di attaccarvi e fare scorta perché come ho già detto ha le sue bombole, con un suo compressore interno ci mette un po' di più circa il doppio perché è un compressorino più piccolo e arriviamo anche ai due euro, due o tre euro, ma quando è tanto? E facciamo come ho già detto sui 250 chilometri. Mi sembra che sia il gioco come si suol dire vale la candela. Ecco. E ripeto, impatto ambientale zero perché viene fuori aria pulita. Ecco. Quindi, con questo cosa devo altro dire? Nulla, solo che speriamo perché anche le macchine elettriche, sì, d'accordo, ma dopo ci sono le batterie, le batterie, smaltimento e via dicendo, questo e quest'altro. Per me le alternative più valide a livello impatto ambientale sono questa ad aria oppure l'idrogeno che però lì vabbè c'è anche un discorso di pericolosità e via dicendo, però diciamo le prime adesso al giorno d'oggi hanno fatto delle innovazioni che veramente lo controllano molto bene insomma. Comunque senza discostarsi da quello che è la notizia diciamo, al giorno d'oggi se uno vuole, se va sul sito della Tata Automobili, fra i vari modelli può trovare anche quelli ad aria perché la Tata ha acquisito praticamente i diritti di questa macchina qua insomma, ecco, di questa marchio qua. Tutto qui ragazzi, ciao, alla prossima!